Buonasera a tutti, un ringraziamento particolare all'Associazione dei Commercianti di Tropea per averci invitato e per averci dato la possibilità di poterci esibire in questa bellissima piazza qui a Tropea è per noi un onore, questa occasione così bella che è appunto l'accensione delle luminarie vi approfitto per fare gli auguri di Buon Natale a tutti, ok grazie Buonasera a tutti, per me è ancora più forte l'emozione perché è la piazza in cui ho giocato da piccola e mi sono tanto divertita in questo spiazzale meraviglioso oggi è ancora più bello grazie alle luci meravigliose che a breve si accenderanno sono felice e onorata di aprire questa serata con due pezzi che andremo ad eseguire due pezzi natalizi ovviamente e sono Merry Christmas e Oh Only Night ringrazio tutti, ringrazio l'associazione ASCOM per averci invitati anche da parte mia tanti auguri, tanti auguri di Buon Natale e un sereno anno nuovo arrivederci